Il gol è di Niccolò perché la palla è entrata di un metro, però comunque l'importante è la vittoria di squadra, quindi siamo contenti così noi. Quindi il terzo gol l'ha realizzato Postiglione con quella grande punizione. Stefano, però tu hai realizzato il primo gol, hai aperto le marcatore, una grande giocata la tua, ma soprattutto un Chieti che ha prodotto oltre alle tre marcature tante altre occasioni. Sì, io per il gol sono contento perché comunque fa parte della mia crescita, poi la partita si è andata bene, noi stiamo facendo il nostro cammino e andiamo avanti. Sotto l'albero caramelle, cioccolati, panettoni, torrone e quant'altro. Sì, sempre, è Natale quindi è così. Senti, ti trovi molto bene nella fase d'attacco con i tuoi compagni, con Falla, ma anche con Alessandro? Sì, siamo uniti, non pensiamo alla giocata singola, ma è tutto un gioco di squadra, quindi noi facciamo quello che chiede il minister e come va la partita noi la affrontiamo. Senti, è la prima volta che segnate tre gol, però ripeto, tante altre occasioni, è successo qualcosa perché fino a questo momento il Chieti magari aveva prodotto meno occasioni, aveva segnato sì, però tutte in una volta, fa quasi specie. No, vabbè, sono le occasioni che si creano in campo e voi col campo basso pure abbiamo creato molte palle gol noi, però non le abbiamo colte bene, però oggi siamo stati bravi a fare gol subito. Hai visto la classifica siete tutte lì, c'è un gruppone. Ancora vedo niente, quindi non so. Possibile? No, ancora vedo niente, quindi ancora so com'è la classifica. Senti, ma negli spogliatoi ci sono stati complimenti da parte dei dirigenti, che cosa vi hanno detto l'allenatore? Sì, sono contenti perché è la vittoria importante per chiudere questo anno a 30 punti, quindi siamo contenti. Chiudete con un sorriso, un sorriso e anche un augurio che volete rivolgere a tutto il popolo nero-verde? Sì, chiudiamo con un grande sorriso perché con una vittoria e niente, siamo contenti. Tifosi? Tifosi, siamo contenti pure per loro perché comunque loro vogliono che noi andiamo avanti per il nostro cammino e niente, siamo contenti. Comunque, ci credete a questo girone di ritorno? Sicuramente c'è anche il Chieti per la lotta a promozioni. Sì, ci siamo anche noi, ma ci sono anche altre squadre, siamo tanti là davanti, quindi noi dobbiamo pensare solo a allenarci e ogni domenica di vincere ogni partita, poi si vede. Ultima cosa Stefano, di quelle che stanno insieme a voi nel gruppone, che ambiscono al salto di categoria, qual è secondo te quella da temere di più? Non c'è, non lo so, stiamo tutti lì, non è che c'è quella fortissima o quella scarsa, quindi si vedrà, si vedrà, non lo so.